Ecco qua, Max si trova al parcheggio del cimitero e allestisce il talamo dove puoi portare l'ammalgascione. Vedete che sta lavorando e lui oramai fissa il parcheggio del cimitero per l'ammalgascione. Vedete, lavora, lavora, sta portando il talamo, lo sta portando per poi incontrarsi con l'ammalgascione perché vuole qualcosa di comodo al parcheggio del cimitero, vedete, vedete. Ecco, ecco, vedete che sta portando, portando tutto. Grande Max, grande Max, vedete, vedete che fa un lavoro, fa un lavoro notevole il nostro Max, il nostro Max ve le prende anche dei fiori, sempre al parcheggio del cimitero, va a far razzia sulle tombe, prende i fiori e li porta, adesso vuole cercare, secondo me, di prendere i fiori perché crisantemi e all'ammalgascione non si negano, all'ammalgascione carampane lui regala crisantemi perché così si rendono conto, diciamo. Regala sempre crisantemi e all'ammalgascione. Eccolo qua, Max, parcheggio del cimitero, crisantemi e all'ammalgascione, allestisce il talamo e prende i crisantemi da regalare all'ammalgascione, vedete, vedete. Grande Max, top, il top dei toyboy, top dei toyboy, grande Max, grande Max. Questo parcheggio del cimitero ormai è famoso, è famoso, Max ormai se ne è appropriato, se ne è appropriato. Eccolo qua, eccolo qua, grande Max, stabilisce, vedete, ha già trovato la posizione, adesso deve solo mettere a posto perché il talamo va posizionato poi nel luogo giusto, lui deve lavorare, deve fare, deve darsi da fare. Il nostro Max non può stare fermo, ma no, lui lavora sempre, lavora sempre, vedete come lavora, si dà da fare, si dà da fare e non si ferma mai. E poi...